stasera il presidente gianni illustrerà la mappa della toscana per la prossima settimana sono attese nuove zone rosse mentre il consiglio regionale è tornata a chiedere uno sforzo maggiore sulle vaccinazioni riconoscimento del consiglio regionale per cinque donne che si sono distinte tra sport e scienza il loro esempio utilizzato come forza trainante per la toscana che verrà mazzeo sono la testimonianza di chi non si è reso l'ultima parola di eugenio gianni sulla colorazione delle zone arriverà questa sera il destino di prato sembra già segnato mentre pistoia è sicura di rimanere in zona rossa per un'altra settimana per il resto la mappa della toscana resta da scrivere ma il presidente regionale nei giorni scorsi non aveva escluso nuove restrizioni i dati sui contagi non stanno andando bene e gli ospedali hanno un alto livello di occupazione una situazione di criticità che è stata affrontata anche dal consiglio regionale il governatore ha chiarito che ha già avviato un dialogo con i territori in modo tale che non si trovino impreparati a eventuali nuove misure noi le ipotesi di restrizioni potremmo considerare venerdì prossimo però io sto preparando in qualche modo i sindaci e coloro che rappresentano il territorio avendo la possibilità che tutti sappiano che se venerdì quando arrivano i dati ci sono delle condizioni che impongono magari in una toscana che non è dato saperlo oggi ma rimane arancione la restrizione di linea rossa o di chiusura delle scuole siano pronti ecco perché ieri ho fatto la riunione con la provincia di lucca tendendo per provincia di lucca i sindaci della provincia di lucca stasera lo farò con la provincia di arezzo anche questo caso prevedendo la presenza dei sindaci di arezzo spiegando che il nuovo decreto che è stato per la prima volta firmato da draghi e quindi il dpcm prevede questa possibilità all'articolo 21 del presidente della regione di prescrizioni più restrittive con ordinanze e proprio sotto questa base io assumerò quello che sono i profili decisionali per poter garantire alla toscana di come dire colpire in modo chirurgico le zone dove vi sono più potenzialità di colla di contagio che poi si promanano nelle altre zone il tema ha trovato ampio risalto in aula con i consiglieri che più sulle restrizioni si sono concentrati sulla campagna di vaccinazione tra le fila della maggioranza hanno battuto su questo tasto sia vincenzo ceccarelli del pd che stefano scaramelli di italia viva entrambi hanno sottolineato lo sforzo della toscana per farsi trovare pronta rilevando che ora l'attenzione deve essere sulle categorie fragili irene galletti del movimento 5 stelle ha invece insistito sulla necessità di produrre vaccini in italia è un'emergenza che è sul piatto del governo è evidente che dobbiamo uniformare le iniziative a mio avviso a livello non soltanto regionale ma quanto nazionale serve essere responsabili in questo mese perché a mio avviso è il mese più delicato che dobbiamo superare le persone devono avere grande responsabilità del rispetto delle regole quindi se servono ulteriori restrizioni si facciano nel mentre si fanno queste restrizioni si faccia una grandissima campagna di vaccinazione io ho chiesto con una dichiarazione molto forte che la toscana passi da 14 mila vaccini al giorno a 30 mila vaccini al giorno solamente così noi saremo nelle condizioni diciamo il 30 giugno di dire che questa storia è finita noi possiamo determinare un campo di immunità fatto del 70 80 per cento della popolazione solamente se noi passiamo da 14 mila a 30 mila vaccini al giorno va fatto entro giugno quindi evidente che se vuoi fare delle restrizioni devi abbinarle a una grande stagione di vaccinazione di massa ovviamente delle cose stanno andando bene altre non stanno andando bene penso alle vaccinazioni sopra gli ottantenni non stanno andando bene sono troppo lente bisogna velocizzare quel processo dare seguito subito alle persone fragili sono 800 mila persone e poi grande vaccinazione di massa partendo sicuramente dalle categorie dei servizi essenziali come più volte ho fatto monito e ho richiesto anche pubblicamente perché se abbiamo chiesto a una cassiera di un supermercato a un giornalista a un edicolante a un impiegato delle poste di stare aperti nel primo lockdown non sono mai fermati oggi ti vai a chiedere fondamentalmente di continuare a stare aperto dare un servizio alla comunità e come tale a mio avviso ripeto a mio avviso devono avere un livello di priorità rispetto alla vaccinazione rispetto ad altre persone quindi questa è una presa di posizione personale però anche il mio partito ha condiviso in questo momento l'accelerazione sull'attività di vaccinazione se servono le restrizioni si facciano ma abbinate a questo è assolutamente importante tenere sotto controllo l'andamento della curva pandemica e poter intervenire laddove ci sono delle situazioni che mostrano un innalzamento quindi l'individuazione di zone rosse puntuali circoscritte possono servire per limitare e contenere la diffusione del virus intervenire con un tracciamento immediato in quelle realtà e preservare possibilmente invece dall'andare in un zona rossa generalizzata per tutta la regione quindi credo che questo monitoraggio molto attento che stia facendo la struttura che stia facendo l'assessorato in generale sia veramente importante credo che sia sotto gli occhi di tutti che la situazione è ancora una situazione critica e che ogni provvedimento che viene preso viene preso per cercare di non aggravare la situazione che potrebbe dopo creare maggiori chiusure maggiori restrizioni rispetto a quelle che invece possono risultare necessarie se si interviene subito e in maniera puntuale. È una notizia che purtroppo temevamo e alla quale dobbiamo fare fronte sicuramente con una rinnovata attenzione nel nostro quotidiano ma soprattutto con un impegno maggiore sul fronte delle vaccinazioni che saranno l'unico argine veramente possibile attuabile a quella che altrimenti rischia di essere un continuum di apertura e chiusura a singhiozzo che sta già riducendo l'economia allo stremo. Non bastano più ristori a questo punto serve qualcosa di molto più definito e non dobbiamo fermarci in questo momento che abbiamo trovato la soluzione che è quella dei vaccini. Ricordo ancora una volta la mia proposta che poi è stata raccolta anche qui in consiglio regionale dell'autoproduzione dei vaccini. Si sta procedendo in questo modo in molte regioni ed è forse l'unico modo per avere tutte le dose che servono senza che ci siano dei tagli a bloccare la nostra attività. Anche l'opposizione ha concentrato gli interventi su questo argomento ma sulla campagna di vaccinazione è stato sollevato più di un dubbio sia Marco Stella di Forza Italia che Diego Petrucci di Fratelli d'Italia hanno lamentato i ritardi e le difficoltà nel reperire i vaccini che Marco Landi della Lega ha invitato a fare di più pur non dicendosi contrario a nuove restrizioni in caso di necessità. Siamo estremamente preoccupati sulle nuove restrizioni, aspettiamo di capire quello che succede. È chiaro a tutti che non può esserci un nuovo lockdown perché una nuova zona rosso, un nuovo lockdown significherebbe uccidere un'economia che è già morente. Abbiamo bisogno invece di una iniezione di liquidità, abbiamo bisogno che il governo nazionale finalmente metta risorse vere, per questo aspettiamo con ansia il nuovo decreto ristori che dovrebbe prevedere grandissima liquidità nelle casse delle aziende e nelle tasche delle nostre famiglie. Vedete questo non è soltanto una crisi sanitaria ma è la più grande crisi economica dal dopoguerra ad oggi. Per questo dobbiamo uscire con misure chiare e mirate. La prima fra tutte è vaccinazione ed è impensabile e inaccettabile vedere che i vaccini o si buttino via o che ci siano dei ritardi sui vaccini o che addirittura ci siano delle categorie privilegiate rispetto ad altre. Dobbiamo vaccinare veloce, dobbiamo vaccinare tutti e soprattutto, consentitemi di dire, dobbiamo vaccinare chi ha delle patologie, penso ai malati oncologici, penso ai cardiopatici, penso a chi ha malattie croniche, penso a chi sta combattendo per la propria salute ormai da tantissimi anni. Quelle categorie sono abbandonate dal governo e dalla regione. Abbiamo portato un atto di indirizzo in Consiglio regionale per chiedere la vaccinazione immediata di quelle categorie che sono le categorie più fragili e che se dovessero prendere il Covid sarebbero quelle molto probabilmente che soffrirebbero di più. E dico anche un'altra cosa, l'ho detta con grande forza anche ai miei interlocutori nazionali, questa storia del brevetto è inaccettabile. Le nuove restrizioni, se sono necessarie, sicuramente lo sono perché ancora non è partita in maniera seria e efficace la campagna vaccinale. Ci si continua a concentrare su le restrizioni e sui provvedimenti restrittivi anziché su quelli che possono essere i rimedi. Noi abbiamo presentato un piano vaccinale completo e ben fatto dove fondamentalmente affrontiamo tre temi. Chi deve farsi il vaccino, io su questo faccio l'avvocato, potevo farmelo, non me lo sono fatto e rivendico la scelta di non essermelo fatto perché penso che non siano le lobby a decidere chi deve essere vaccinato, ma deve essere la comunità tecnico-scientifica. La lobby degli avvocati era più forte della lobby di chi per esempio lavora nelle imprese di pulizia anche in servizi a rischio e quindi gli avvocati potevano farselo e chi lavora nelle imprese di pulizia no. Io ci ho rinunciato, c'è stato fino ad ora un approccio lobbistico che noi contestiamo come Fratelli d'Italia, quindi nel primo vaccino abbiamo messo. Chi deve farlo? Chi lo deve inoculare? Per esempio noi riteniamo che lo debbano inoculare, lo possono inoculare gli studenti del quinto e sesto anno di medicina in cambio di crediti formativi, quindi senza ulteriori spese per il pubblico. Per quanto riguarda la Regione Toscana noi crediamo e l'auspicio è che anche il Presidente Gianni poi porti avanti quello che insomma sta dicendo in questi giorni, cioè che l'iniziativa è di portare attenzione però in maniera capillare ai territori, quindi di prima di tutto valutare sulle province la possibilità di chiudere, sentiti i sindaci delle varie province e dei territori e valutare quindi la chiusura delle province così come è stato fatto per Pistoia per due settimane. Ma al tempo stesso, perché sappiamo che il limite è quello dei 250 sulle 100.000 persone, sono dettate dall'ultimo DPCM Draghi, in particolare dall'articolo 21, quindi in questo sistema credo che l'azione più giusta sia quella della capillarità, cioè andare a individuare il comune, quindi prima dalla provincia ma una volta vista la provincia, andare a vedere quei comuni che a venerdì scorso erano circa 60 e capire se superato questo limite il sindaco sentito, il Presidente della Regione intende chiudere o no, perché in molti casi ci sono dei piccoli paesi o delle piccole cittadine che magari hanno dei casi di Covid che sono nati da dei focolai specifici, magari in delle RSA o magari derivate anche da due o tre famiglie che stanno in una piccola frazione, quindi perché andare a chiudere tutto il comune in zona rossa? E altrettanto anche per quanto riguarda la didattica, la didattica deve essere mantenuta, i ragazzi devono andare a scuola. Un premio a chi non si arrende, nonostante tra casa e lavoro le sfide siano continue. Lo sanno bene le donne che a ogni latitudine si trovano ad affrontare i problemi quotidiani di chi deve dividersi tra professione e famiglia. Alcune si arrendano, altre scelgano una delle due sfere. Fortunatamente non mancano gli esempi di chi, nonostante gli ostacoli, ce l'ha fatta a coniugare le cose e il Consiglio regionale, in occasione dell'8 marzo, ha voluto riconoscere a 5 donne la capacità di distinguersi nei rispettivi campi. Anzi, come hanno sottolineato sia il Governatore Eugenio Gianni che il Presidente dell'Assemblea Toscana Antonio Mazzeo, il loro esempio è una forza attrenante per tutto il nostro territorio. Il 8 marzo quest'anno si ha vissuto il Consiglio regionale attraverso la testimonianza, la vita di 5 donne che nel mondo dello sport, dell'università e della ricerca, dell'astrofisica e quindi del volo su Marte e poi per me è molto caro attraverso la rappresentanza di colei che è una delle coordinatrici, dei giovani ricercatori che ci daranno nella lotta contro il Covid e l'anticorpo monoclonale. Ecco che 5 vite, impegni e simbolo di quanto sia importante, fondamentale la valorizzazione della donna nella società civile, nelle professioni, nella espressione del suo talento. È il modo per dire che la Regione Toscana vuole valorizzare, far crescere, sensibilizzare tutti sul ruolo della donna. Un giorno come questo abbiamo voluto premiare 5 donne che stanno portando in alto il nome della Toscana, dell'Italia nel mondo, ognuna nella loro disciplina, nella ricerca, nello sport, mondo culturale. Noi in questo momento vogliamo mandare un messaggio, un messaggio forte di speranza che la Toscana deve ripartire guardando al futuro con gli occhiali delle donne. Io penso che in un momento come questo dobbiamo mettere in campo risorse esattamente in questa direzione. La nostra proposta di legge che abbiamo fatto durante la campagna elettorale è quella di dare l'asilo nido gratuito a tutte quelle famiglie che hanno un'isee sotto 40.000 euro. È un modo per dare risposte ad un welfare che richiede un ruolo più forte ancora delle donne nella nostra società. Per il premio sono stati selezionati due ambiti, quello sportivo e quello scientifico. Per il primo in Palazzo del Pegaso erano presenti Ambra Sabatini, giovane atleta paralimpica e Chiara Sacco, canoista di indubbio successo. Questo premio per me significa tanto perché comunque rappresenta quello che le donne possono fare, nel caso mio possono fare nel campo sportivo e sono orgogliosa di essere affiancata da queste altre magnifiche donne. Il messaggio che voglio dare a tutte le donne è che essere donna è un privilegio e che noi donne dobbiamo sempre lottare per far sì che siamo rispettati in ogni ambito, sia lavorativo che sportivo che sociale. E io che sono una sportiva spero tanto che non ci sia più la differenza tra sport maschile e sport femminile e che si prende in considerazione anche il discorso di far sì che le donne vengano riconosciute come sportive professioniste al pari degli uomini. Per quanto riguarda le scienze, sono state omaggiate Teresa Fornaro, unica italiana nella missione Marz 2020, Claudia Sala, a capo della ricerca sugli anticorpi monoclonali come cura contro il Covid, ed Elisa Volpi, ricercatrice fiorentina di Stanza Ginevra. Io direi che almeno per questa missione della NASA Mars 2020 non ci sono discriminazioni reali. Un esempio è appunto che il capo del progetto scientifico è una donna, anche la manager del progetto scientifico è una donna e siamo stati selezionati a novembre scorso 13 scienziati per supportare le attività del rover attraverso degli studi complementari. Di questi 13, 7 siamo donne giovani, ecco io sono l'unica italiana tra questi 13 che è stata appunto selezionata, però appunto è un buon, io direi un buon segnale, molto positivo proprio perché la scienza non guarda al genere ma guarda alle capacità della persona individuale. E' quello che abbiamo sentito da più parti, cioè quello di non arrendersi e di combattere. Il combattere contro la malattia si combatte con il vaccino, si combatte accettando la campagna vaccinale, si combatte anche sul campo come noi stiamo facendo con la ricerca dei nuovi metodi di cura, si combatte anche formando le nuove persone, le nuove generazioni che ad esempio nel nostro laboratorio stanno imparando a diventare ricercatori. Spesso e volentieri sei l'unica donna nella stanza, c'è anche chiaramente è più difficile portare avanti una carriera accademica, è più difficile perché devi prendere delle scelte eventualmente spesso. La carriera accademica ti richiede un'estrema flessibilità che spesso se hai famiglia magari non sei disposta a seguire eventualmente, semplicemente cambiare città, cambiare paese tutte le volte solo perché c'è un posto disponibile.